Quest'uomo mostra la sua casa alla periferia di Beirut, materassi e coperte a terra per dormire, qualche tannica d'acqua e nient'altro. Io vivo qui, dice, con mia moglie e i miei figli e da molti mesi ormai sono disoccupato. Il Libano, che un tempo era chiamato la Svizzera del Medio Oriente, sta vivendo una gravissima crisi economica che è diventata ormai crisi umanitaria. Un report delle Nazioni Unite, diffuso una settimana fa, dice che tre quarti della popolazione libanese vive al di sotto della soglia di povertà, una situazione drammatica alla quale dovrà cercare una soluzione il nuovo governo, nato dopo uno stallo, durato oltre un anno. Il premier incaricato, Najib Mikati, ha infatti ottenuto oggi il via libera dal presidente della Repubblica, Michel Aoun, per formare il nuovo governo, il cui primo obiettivo sarà appunto quello di negoziare aiuti economici con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. La situazione nel paese già difficile è diventata drammatica anche a causa dell'esplosione al porto di Beirut nell'agosto del 2020. Oggi nelle farmacie mancano le medicine, negli ospedali i farmaci chemioterapici sono introvabili, davanti ai distributori di benzina ci sono file interminabili, non c'è l'elettricità e dunque neanche internet. Nessuno raccoglie più la spazzatura dalle strade e fuori da Beirut non c'è acqua corrente. Quella del Libano è una crisi che viene da lontano. Da quasi due anni nel paese ci sono grandi proteste di piazza contro una classe politica ritenuta corrotta e inadeguata, accusata di aver portato il paese al default, una classe politica sempre uguale a se stessa, grazie a una divisione religiosa che si traduce in una rigorosa spartizione degli incarichi istituzionali.